E qui dice tu non ci crederai, però anche il riflesso del mio Macbook infastidisce il mio occhiale filosofico, non ci crederai, ma anche Fastweb praticamente 1832 volte al mese genera dei problemi che vengono ricercati su internet e Fastweb smette di funzionare. E' un fottutissimo problema, se vuoi risolvere guida all'interno del mio blog c'è un pulsante da qualche parte ed è un articolo gratuito, oltre alla lettura quando ti capiterà che Fastweb non funziona vai sul mio situccio, ti fai tutte le tue cosucce, ti guardi insomma tutte le informazioni, verso la fine o verso l'inizio alle volte così come mi gira, ma più verso la fine, metto sempre dei piccoli omaggi E praticamente ragazzi sono calati i tassi di interesse sui prestiti e il prestito tra privati sta volando, link nella descrizione del mio profilo.